Tutto ciò che non sai su Beetlejuice, spiritello porcello Il nome Beetlejuice deriva da Beetlejuice, la seconda stella più luminosa della costellazione di Orione Oltre a Michael Keaton, per il ruolo vennero presi in considerazione Robin Williams, Christopher Lloyd, Jim Carrey, Jack Nicholson, Bill Murray e anche Arnold Schwarzenegger In cima alla giostra di Beetlejuice si può notare uno scheletro che somiglia molto a Jack Skellington Il famoso protagonista di Nightmare Before Christmas, ideato proprio da Tim Burton Al servizio funebre successivo alla morte dell'attore che interpreta Otto, Glenn Shadix, è stato suonato il brano dei Oh, The Banana Bot Song, che ha reso iconica la scena della cena Ha avuto un grande successo, con un incasso totale di circa 75 milioni di dollari, a fronte di un budget di appena 15 milioni Per truccare Michael Keaton servivano circa tre ore ogni volta che bisognava prepararlo per le riprese Il costume di Beetlejuice è opera della costumista Aggie Gerard Rogers, che ha anche lavorato ad altri film di Tim Burton, come Edward Mani di Forbici e Batman Return In origine si era pensato a un finale decisamente più cupo, con il suicidio di Lydia, che si sarebbe unita agli altri fantasmi Alla fine si è optato per un finale decisamente più soft A settembre arriverà al cinema il sequel, ma non è la prima volta che si pensa di portare in sala un seguito di questo film Negli anni 90 si diffusero alcune voci su un sequel chiamato Beetlejuice Goes Hawaiian, in cui il protagonista sarebbe andata alle Hawaii Alla fine le idee per un seguito vennero usate per realizzare una serie animata Per altri video sul mondo del cinema, segui Screen Week Per altri video sul mondo del cinema, segui Screen Week